Buon appetito! 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 e ho conosciuto questo dialogo a formazione di questo tipo di dialogo di poesia e di le scena e di tutti i miei E... e... ...e... ...e... ...esmen... ...tu... ...hellenisti... ...dea legistai... ...esmen... ...heptà... ...antropoi... ...e... ...entuto... ...teu calor... ...e... ...ceepo... ...cae... ...cafemera... sulla lumen per i poiematon cae allon ergon palaion helenon ora su polacis elvis d'euro in un udo ho proos eniautos in hoa helenon egenito egosi cai viuo ete pro tu nul cai fusteron uccat eniauton ala polaki tar egenomen Sì, e tutto... Poi la... Calos... Oistano... Tutto... 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 Tutto? Tutto... E... Poi... Ios... ...Idasin... Entauce... ...happax... Tu etus... ...anthropoes... ...sunagontai... ...tu... ...hellenistei... ...metallelon... in questo modo. E in tutto questo, e per quanto riguarda parecchi un po' pragmatiche, i altri, entaustano. Olicoi ma attenzione? No, no, no. E questo è che che non 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 mon che un non che che non Eroste e pantes.